Amici di Android Blog, siamo in compagnia del Galaxy Gear Neo di Samsung, appena presentato nella presentazione di questo Mobile World Congress 2014. Il Gear Neo è la versione economica del Galaxy Gear 2, infatti porta il nome Galaxy Gear 2 con l'aggiunta della parte Neo. Possiamo vedere un display Super AMOLED da 1,63 pollici, abbiamo comunque una resistenza all'acqua e alla polvere IP67. Il Neo è dotato comunque di accelerometro, pedometro e quant'altro per tutte le applicazioni fitness tanto care a Samsung. Possiamo vedere sotto il connettore per la ricarica, il cinturino davvero elegante con questa finitura in metallo dove troviamo la chiusura e la regolazione per la dimensione. Abbiamo comunque il tasto home sul corpo dello smartwatch e questo sensore che supponiamo essere quello che durante la presentazione hanno definito un sensore infrarossi per le applicazioni di comando di apparecchi remoti quali una televisione. Il cinturino sembra davvero molto robusto ed elegante e intercambiabili con gli altri colori disponibili, quello marrone e quello arancione. Questo Galaxy Gear Neo quindi avrà sicuramente un prezzo più accessibile visto quanto comunque è alto quello del primo Galaxy Gear e probabilmente potrà trovare un'ulteriore conferma nel fatto di essere retrocompatibile con davvero tanti modelli di Galaxy. Ancora non sappiamo quale non mancheremo di informarci nei prossimi giorni, come non mancheremo di confrontare i vari menu e le varie informazioni che non sono state dette durante la presentazione. Chissà che non troviamo qualche altra particolare funzione.